Musica Mercoledì 7 giugno, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa, prima dei quotidiani regionali e nazionali. Una notizia, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha presentato nell'escursione la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio della Regione Abruzzo, interessato dagli eventi meteorologici dello scorso mese di maggio e tuttora in corso. Il maltempo ha creato situazioni molto critiche per quanto riguarda il dissesto idrogeologico in diversi comuni. Attraverso l'Agenzia regionale di protezione civile abbiamo inviato, ha spiegato Marsilio, una dettagliata relazione al Ministro Nello Musumeci e al Capo Dipartimento della Protezione Civile, con l'obiettivo di vederci riconosciuto lo stato di emergenza. I comuni più colpiti sono stati quelli di Chieti e di Bucchianico, ma episodi franosi si sono verificati in tutte e quattro le province abruzzesi. Di pari passo insieme al Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente stiamo effettuando una ricognizione sui danni che il maltempo ha causato anche su molti terreni coltivati. Come Regione siamo vicini, conclude Marsilio, agli imprenditori agricoli che hanno subito danni, ai cittadini che stanno subendo disagi a causa di eventi che si sono verificati nelle scorse ore, con la speranza di trovare le opportune soluzioni in tempi rapidi, ha concluso il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Ed ora veniamo in Molise, donna segregata, in casa per 22 anni, moglie e marito, rispettivamente cognato e fratello, rinviati a giudizio. Ci racconta tutto Valentina Ciarlante. Il prossimo 19 settembre si aprirà il processo per marito e moglie di Casal Ciprano accusati di aver segregato in casa per anni la sorella di lui. I due sessantenni che devono rispondere di maltrattamenti e sequestro di persona sono stati rinviati a giudizio dal GUP del Tribunale di Campobasso. Ci aspettavamo questa decisione. Le parole dell'avvocato della coppia, Demetrio Rivellino, appronteremo ora la migliore difesa, sono convinto dell'innocenza dei miei assistiti. Moglie e marito, che si sono dichiarati estranei ai fatti sin dall'inizio della vicenda, scoppiata nel settembre 2022, erano presenti in aula. Avrebbero costretto la sorella e cognata a vivere una sorta di prigionia nella casa di Casal Ciprano per ben 22 anni, periodo interrotto dai carabinieri di Boiano, che intervennero con un blitz dopo una denuncia anonima. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la presunta vittima, 67enne rappresentata dall'avvocato Giuseppe De Michele, sarebbe stata anche maltrattata e privata di tutto, costretta a vivere in una stanza senza riscaldamento e il bagno. A dare in là agli accertamenti anche alcune segnalazioni, una storia narrata però in maniera completamente diversa dalla coppia di imputati, che ha sempre dichiarato di non aver mai impedito la signora di uscire. I quotidiani regionali, iniziamo da primo piano Molise che apre con la politica, con il Partito Democratico che schiera i migliori, Salvini torna con i ministri, Dem in piazza, mandiamo a casa un governo che ha portato il Molise al disastro, il vicepremier questa sera a Termoli, Comizio e domani a Isernia invece sul lotto zero. Il 14 la squadra di Chigi, Izzo intanto attacca Gravina, non ha sfiduciato Florenzano. La replica del candidato presidente del centrosinistra mi confonde con Roberti. E poi che figura la consulta boccia un'altra legge e abbatte la regione. Testo incomprensibile. La Corte Costituzionale ha ritenuto talmente gravi le carenze del testo di legge impugnato da pubblicare un comunicato stampa dedicato al Molise. E poi Franca Irano era appena stata dimessa, schianto in galleria al vaio degli inquirenti, i certificati ospedalieri. Casal Ciprano segregata per 22 anni in un tugurio, fratello e cognata a giudizio. C'è poi Santa Maria, omicidio di Natale, la Cassazione decide se Irmaforte va in cella. C'è il punto di Giuseppe Carozza quando madre e figlio diventano cose. Carozza si occupa dell'omicidio di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi. Se ne è parlato e se ne continuerà a parlare molto di questa tragica vicenda. E poi Termoli, bandiera verde, ma i residenti protestano, non è una spiaggia per bambini. L'approfondimento, bella cortese colta, aspirante medico nei panni della Donzella. E poi con le torto, scuola intitolata alla maestra Carmela Ciniglio. In taglio alto ci sono i richiami di sport. Ecco il probabile girone F in cui saranno inserite le tre molisane. Poi Isernia, il patron tra Isci al lavoro per costruire una squadra vincente. Atletica, Venafro, è tutto pronto per la ventunesima edizione del Sannicandro. Lasciamo primo piano Molise, andiamo sulla prima del centro. Centro che apre con l'entusiasmo che c'è a Pescara in vista del play-off di ritorno della semifinale. Venduti 17 mila biglietti in un giorno, entusiasmo alle stelle. Per la sfida di domani col Foggia, l'Adriatico sarà pieno. In taglio alto, sede regionale, bufera nel centro-destra. Pescara, il consiglio comunale va deserto. L'ira del sindaco Masci contro la maggioranza è un fatto grave. E poi Messina Denaro si è aggravato. Possibile ricovero in ospedale. Mentre Stuppia diventa rettore, adesso basta campanilismi. Cambio all'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Mentre per il premio Strega Giovani vince da Damo il marito. Ada voleva esserci l'autrice scomparsa. Ed ancora, le altre notizie. Calci ai poliziotti. Dopo il controllo scatta l'arresto. Pescara, 38enne nei guai. Mentre Pecorale rivela. Volevo punire gli Elfri. Pescara, l'aggressore del cuoco, scrive alla procura. Mi ha minacciato. Io ho sparato. Ed ancora, Viale Marconi. Siamo sempre a Pescara. Nuove proteste. Apparsi cartelli sulle vetrine dei negozi. Cercasi collaudatore dopo le dimissioni del tecnico comunale. E in Abruzzo, ovviamente, Frane e Danni. Ora Marsilio chiede lo stato di emergenza. L'abbiamo visto anche in apertura della nostra rassegna stampa. Ed ancora, novità, super bonus. Novi sconti alle famiglie meno abbienti. Lasciamo il centro. Andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo che apre con il super boss verso il ricovero. Peggiorano i sintomi del tumore di Matteo Messina. Denaro detenuto all'Aquila. Il San Salvatore si prepara a una breve degenza. Lavori per aumentare la sicurezza. I danni del maltempo. Frane smottamenti. La Regione ha chiesto lo stato di emergenza. Mentre per la vicenda autostrade A24-A25. Ora Salvini accelera nuovo vertice al Ministero. Il nodo infrastrutture. E poi, come Daria, Ada D'Adamo vince il premio Strega Giovani. In taglio alto, l'Aquila per il cinema Massimo, una rinascita moderna. E poi l'Università, la D'Annunzio, iniziata l'era del rettore Liborio Stuppia. E per la Pallas Picchi, Pescara, capitale del basket, Fontecchio, al torneo Under 13. Le altre notizie. In taglio centrale, scacco alla mafia dei Pascoli. Azienda restituirà i fondi dell'Unione Europea. Un anno fa scattò l'interdittiva del prefetto per legami con la Camorra e di clan Foggiani. A Roseto rapina al Globo con un bimbo coppia arrestata. E poi c'è questa bellissima foto. Playoff per la B cresce l'attesa. Pescara Foggia è il record. Già staccati 17 mila biglietti. In taglio basso, Raffaello Sanzio dalla National Gallery di Londra all'Aquila domani. All'Accademia delle Belle Arti Lexio Magistralis del professor Exerdian dell'Ateneo di Leicester. Lasciamo i quotidiani regionali. Andiamo su quelli nazionali. Iniziamo, come sempre, con il Corriere della Sera. Tutti i quotidiani si concentrano sul PNRR, ma anche su ciò che accade in Ucraina. Ecco il Corriere della Sera. Scontro sul PNRR. Fiducia al Governo. Il sì della Camera. PD e Movimento 5 Stelle. Così si aprono conflitti con le toghe. Ma il ministro Ciriani. I controlli ci saranno. Limiti alla Corte dei Conti. La legge è entro giugno. Luciano Violante dice, lite infondata, la vigilanza non è indebolita. E poi il caso Bibiano. Foti assolto da tutte le accuse. C'è quest'altra notizia di cronaca che troveremo un po' ovunque. Verona. 5 poliziotti arrestati. Pestaggi e sevizie sui migranti. Inchiesta calci e umiliazioni. Ai senza tetto. Il giudice parla di tortura. E poi D'Alema e Profumo indagati per corruzione. L'altra grande notizia, supportata anche da queste foto che ovviamente sono state scattate dall'alto, distrutta una diga ucraina. 40 mila in fuga dall'acqua. Kiev ai russi. Terroristi. Mosca invece nega. Lasciamo il corriere. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. L'apertura è proprio sulla diga distrutta con il rischio Guayont. L'impianto in Ucraina è controllato dai russi. Rallentata l'avanzata di Kiev. C'è l'analisi di Enrico Franceschini. Un crimine alla Stalin. E poi, in taglio centrale, la questura degli orrori. Siamo a Verona. Botte e umiliazioni. Da poliziotti a Guzzini. Cinque arresti. Si accanivano soprattutto su migranti e senza tetto. I racconti di una vittima. Non mi facevano andare in bagno. E ho urinato lì. Mi hanno usato come straccio. Per pulire scontro sul reato di tortura che Fratelli d'Italia vuole abrogare. No, dalle opposizioni. E poi c'è il commento di Carlo Bonini. Quando la violenza è di Stato. E poi la politica con le armi alla Colombia. Navi e aerei militari indagati da Lema e Profumo. Mentre per gli affidi a Bibiano, lo psicologo Foti, assolto in appello. Si parla anche di sport. Rivoluzione Juve si allontana dalla Superlega. Andiamo ora sui quotidiani romani. Iniziamo, come sempre, dal messaggero. Poi vedremo anche il tempo. Il messaggero propone questa grande foto. Sabotaggio alla Diga. 16.000 in fuga. Salta in aria lo sbarramento sul fiume Dnipro. Allagata la regione di Kherson. Kiev e Mosca si accusano. Guerra ecologica. Il peggior disastro dopo Cernobil. Poi la missione in Ucraina. Zuppi, l'inviato del Papa, vede Zeleschi. Passi utili per la pace. L'altra notizia importante che propone il messaggero è quella sui migranti. È un virgolettato. La Unione Europea deve dare risposta. L'intervista è a Mezzola, Europarlamento. Per molti europei è il problema primario. Meloni in Tunisia incontra Sayed per frenare gli sbarchi. Oggi a Roma il governo libico. E poi l'inchiesta sulle navi alla Colombia. indagati anche D'Alema e Profumo. Ed ancora indagine della polizia. Spray, urticante e botte. Cinque agenti ai domiciliari. Andiamo anche sul tempo. Vediamo la prima pagina con il titolo di apertura. e con la Unione Europea dorme i criminali. No, il nuovo racket. Questa è un'apertura scelta dal tempo. Una banda trasferiva profughi dai nostri hotspot verso Francia e Germania. Piante e dosi Stria-Bruxelles. Tratta illegale male comune. Scholz, non vi lasceremo soli. e poi Meloni a Tunisi per evitare il crack nel paese africano e fermare il flusso dei migranti. In taglio centrale c'è Rocca pronto a ridare il patrocinio ma dal Gay Pride nessun passo indietro. Andiamo sul fatto quotidiano che invece si occupa contrariamente a quanto fanno tutti gli altri quotidiani dei finanziamenti dei politici. Ecco i finanziamenti dei politici. Nelle dichiarazioni il conflitto di interessi dell'ex ministro della Salute il caso Speranza Federfarma Unicusano pagò Boschi due sigle di farmacisti per l'ex Leo e una per il sottosegretario di Fratelli d'Italia Gemmato, Bandecchi di Unicusano per la Renziana poi Meloni, Fratoianni e Ibiase in taglio alto Ucraina, Diga distrutta, Gasdotti, la CIA sapeva accuse a Kiev e Mosca ma usa incerti dice il fatto quotidiano. Stanno valutando gli Stati Uniti, stanno cercando di capire. E ancora indagato anche Profumo armi per Bogotà, IPM, 80 milioni per D'Alema e compagni e poi PNRR armato, PD a pezzi sull'ODG contrario del Movimento 5 Stelle. E poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio presunzione di impunità. Velocemente sulla prima pagina del manifesto che titola l'Arena e propone la foto della questura di Verona shock, quattro agenti e un ispettore della squadra volanti arrestati con l'accusa di tortura su immigrati tossicodipendenti e senza tetto e per averne nascosto le prove le indagini aperte su impulso della stessa questura scaligera. Vediamo la prima della verità armi alla Colombia D'Alema indagato questa è l'apertura scelta da Maurizio Belpietro con gli ex AD di Leonardo e Fincantieri Profumo e Bono deve rispondere di corruzione internazionale in combutta con un gruppo criminale organizzato in più stati. L'accusa ha girato la legge per piazzare navi aerei sfruttando agganci politici e diplomatici e Baffino diceva ai suoi sodali la posta in gioco sono 80 milioni da spartire tra tutti noi. E poi riappare Draghi destinazione Banca Mondiale via Parigi andiamo anche sul sole 24 ore che è in taglio centrale come titolo d'apertura sceglie Enel che raddoppia su batterie e reti piano dai 5 miliardi ma propone anche per quanto riguarda la sanità fondi ordinari per 400 case di comunità verso lo stralcio dal PNRR. Infine la Gazzetta dello Sport con la Fiorentina che scende in campo questa sera contro il West Ham una coppa dopo 62 anni Viola vogliono tenere la Conference in Italia l'Inter che si prepara a giocare la finale di Champions mossa da Champions la catena di Inzaghi per isolare Holland e poi in taglio centrale sarà un grande Milan la di Furlani apre l'era del dopo Maldini più poteri a Pioli lo stadio a San Donato Bene, è davvero tutto prima dei saluti vediamo il palinzesto di oggi cosa troverete sulla nostra rete alle 11 c'è Slow Tour con lo speciale di Montaquila sulla Frittata e poi alle 12 il teatro alle 13 Camminando Molise alle 14 l'informazione in diretta dagli studi di Campobasso alle 16 ancora Slow Tour la nostra nuova trasmissione che si occupa del territorio e poi alle 17 personaggi e situazioni del Teatro Sernino alle 19.30 ancora l'informazione sempre in diretta con Pasquale Damiani diretta anche alle 21 con Gigione potrete intervenire telefonicamente e parlare con l'artista alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario Bene, è davvero tutto grazie per averci scelto buona giornata arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti